Riapre finalmente la stagione di eventi culturali della Casa della Psicologia. La nostra casa, inaugurata nel 2015, in questi anni ha visto molte serate con migliaia di partecipanti dal vivo e in streaming. Il titolo del ciclo di seminari di quest'anno è Il mondo dopo. Ripensare nuove geografie umane e sociali ed è un modo per rimanere vicini lasciando aperte le porte della mente. La prima geografia che esploreremo è quella della comunicazione. Il 9 giugno vi accompagnerò nel corso dell'evento Cosa è andato storto? La comunicazione dell'emergenza Covid-19. Insieme a Gianmarco Bacchi, Paolo Moderato e a Maria Testa. Un altro orizzonte della nostra esplorazione riguarderà il come costruire una narrazione dell'esperienza dei mesi passati. Il 24 giugno ci incontreremo all'evento Niente sarà più come prima. Il cambiamento post-pandemia tra nostalgie, speranze e illusioni insieme a Vittorio Lingiardi, Michela Marzano e Lella Costa. Una sfida che ci impegna e ci impegnerà nel futuro prossimo è anche quella di disegnare una nuova geografia delle nostre relazioni. Il 6 luglio pertanto vi aspetto per l'evento e siccome sei molto lontano più forte ti guarderò. Distanziamento sociale e ricongiungimento durante la pandemia. Una nuova geografia delle emozioni insieme a Natalia Aspesi, Pietro Roberto Goisis e Lorenza Pieri. E ancora, il 14 settembre sarò con voi per rispondere alle domande sui risvolti sanitari, economici e psicologici che hanno colpito moltissime fasce della popolazione durante questa emergenza con l'evento Economia, Sanità e la Psicologia che non ti aspetti con Sabina Nuti, Giovanni Fattore e Guendalina Graffiglia. Ma il nostro calendario non finisce qui perché stiamo già lavorando sugli eventi di settembre in cui parleremo di disabilità, di diversità, di scuola, di bambini e di resilienza. Davvero una proposta culturale ricca che abbiamo condiviso con il Comitato di Garanzia della Casa della Psicologia che ringraziamo per il prezioso contributo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.